Siamo qui oggi per parlare di un tema che ci è molto caro, per parlare di sostenibilità, ma anche per parlare di scienza e di robotica. Sì, di scienza, di scelte nella scienza. La scelta della sostenibilità è una scelta importante, quindi dell'impatto di questa scelta della sostenibilità sulla ricerca, sulla scienza e sulla tecnologia che nasce dalla scienza. La scienza ci salverà, ci ha già salvato dal Covid e dalla pandemia, perché se non avessimo avuto i frutti della scienza saremmo ancora tutti in casa, invece siamo qui a Cogne tranquilli. È chiaro che io ho una visione positiva, sono sempre stata un'ottimista e quindi sarò ottimista.